ciao ragazzi eccoci qua allora ben ritrovati oggi voglio discutere insieme a voi di quello che sarà il futuro della juventus senza federico chiesa dico senza federico chiesa da qui alla prossima stagione perché qualcuno giustamente mi ha fatto notare che l'obbligo per il riscatto di chiesa è legato alla stagione 2021 2022 quindi chiesa potrebbe sicuramente non farà i dieci gol e dieci assist potrebbe non aver disputato i minuti necessari per scattare l'obbligo di riscatto e la juventus potrebbe non qualificarsi in champions è anche vero dall'altra parte che se la juve decide di non riscattare federico chiesa con la juve che è soddisfatta di lui il ragazzo che ha fatto vedere quello che vale e probabilmente ad oggi vale molto di più di quanto concordato con la fiorentina due anni fa siamo alla follia vuol dire che è successo qualcosa di veramente molto molto grave quindi ad oggi mi sento di dire che la juventus comunque riscatterà chiesa e che l'anno prossimo si farà trovare pronto e sarà disponibile per un'altra avventura con la juventus questo ovviamente quello che ci auguriamo perché giocatore del genere fantastico come l'abbiamo visto in questo primo anno e mezzo di juventus non possiamo assolutamente farcelo scappare quindi parto da questo presupposto questa è la mia posizione la mia opinione vi chiedo di lasciare un mi piace no a questo video perché oggi andiamo ad analizzare un'idea che mi è venuta in questi giorni più che giorni in queste ore post infortunio di federico chiesa ok e riguarda un po quella che è la juventus di oggi cioè da qui alla fine cosa mi aspetto dalla juve proviamo a vederlo insieme ho diviso il tutto in sette punti questi sette punti andiamo ad articolare insieme e vediamo cosa ne salta fuori il ruolo di dibala questo è il primo in assoluto perché dibala perché io ve l'ho sempre detto i sostituti di cristiano ronaldo sono chiesa e dibala sono i due giocatori che devono prendersi in mano la juventus e là davanti negli ultimi metri sono gli unici che possono far qualcosa accendere una lampadina con una giocata anche tanti altri lo possono fare ma chiesa e dibala hanno ovviamente la maggior parte delle responsabilità ora che non c'è più federico chiesa tutto il peso dell'attacco della juventus si posiziona su paolo dibala che però lo sappiamo è una seconda punta un giocatore che deve giocare insieme all'attaccante quindi ho un attacco 2 o eventualmente il 4 2 3 1 dove dibala fa sì il trequartista ma fa sempre un po sorridere no quando mi vogliono spiegare la differenza tra il 4 4 2 4 3 1 è lo stesso modulo in cui chiedi ai giocatori di fare compiti differenti a seconda del momento della partita è la stessa disposizione tattica il modulo quando è che diventa utile quando metti i giocatori nella miglior posizione possibile per rendere al meglio quindi dal 4 4 2 al 4 2 3 1 se ci focalizziamo sulla posizione di dibala poco cambia perché dibala è un giocatore che viene a prendere la palla tra le linee ama dialogare con un compagno è un giocatore che aggiunge qualità è un giocatore che te la risolve per via centrali quindi 4 4 2 4 2 3 1 non cambia niente ad ogni modo dibala deve giocare per rendere al meglio in posizione centrale e in presenza di un attaccante queste sono le peculiarità di paolo dibala quindi partiamo da qua cerchiamo di mettere dibala nelle migliori condizioni possibili secondo punto il centrocampo a tre perché abbiamo visto che se artur è in campo e può preoccuparsi della gestione dei palloni più arretrati locatelli si sblocca automaticamente può fare dei metri in più e più è vicino la porta più libertà di agire a locatelli ed ecco che la juventus riesce a creare qualcosa in più quindi più liberi locatelli dai compiti puramente difensivi o di impostazione ed ecco che hai un centrocampista che in zona gol diventa pure abile stessa cosa possiamo dire per mckenny è ovvio che se vuoi schierarli tutti e tre lo puoi fare come abbiamo visto l'altro giorno con la roma dove però locatelli e artur erano i due mediani davanti alla difesa e mckenny era il centrocampista di sinistra nel 4 4 2 o 4 e 3 1 chiamatelo come volete nel centrocampo storto quindi dove non faceva il centrocampista ma faceva l'esterno adattato in una posizione che comunque non è la sua se invece vogliamo ripartire da un centrocampo a tre fatto bene artur davanti alla difesa locatelli sul centro destra mckenny sul centro sinistra abbiamo tecnica qualità inserimento e agonismo tutte queste caratteristiche in questo centrocampo che ed è inizio anno che diciamo che in tutta la batteria di centrocampista da juventus questi sono gli unici tre che si salvano poi secondo di quanto vuoi giocare a due o a tre devi scegliere a tre li puoi mettere insieme tutti e tre e hai visto che per quanto coincidenza possa essere stato però quel qualcosa in più la squadra l'ha avuto con quei tre in campoli punto numero tre il modulo ed è qua che casca l'asino perché io ora vi vado a spiegare quella che è stata la mia idea perché io parto sempre a quel concetto cercare di mettere a disposizione dell'allenatore ok un sistema di gioco che riesca a far rispecchiare le migliori caratteristiche di tutti i calciatori i giocatori migliori nei ruoli migliori che possono utilizzare ed è ovvio che io vi ho sempre detto fino adesso la juventus deve scegliere uno schema deve scegliere un modulo un modo di giocare e fino adesso abbiamo giocato un misto tra 4-2-3-1 e 4-3-3 a seconda di quando c'era di bala e quando no quello che dicevamo prima di bala deve giocare centrale nel 4-3-3 abbiamo visto largo o comunque falso move soltanto contro l'atalanta che non è stata nemmeno una brutta partita però è stata l'unica eccezione nella quale allegra ha schierato di bala in quel sistema di gioco lì è ovvio che se ti viene a mancare quello che secondo me il tuo uomo migliore o comunque uno dei tuoi uomini migliori davanti tutto viene messo in discussione ed è vero come vero che la juventus anche in occasione della vittoria dalla rimonta con la roma l'abbiamo visto in occasione del gol di kuluseski con l'analisi che abbiamo fatto ieri la juventus ha utilizzato nuovamente una tecnica che abbiamo già visto fare in tante altre partite viene in mente un'altra quella col genua che è la salida la volpiana che consiste semplicemente nell'allargare due centrali di difesa e nel far scivolare un mediano in mezzo loro due per creare una sorta di difesa 3 in fase di impostazione ora l'abbiamo visto fare a Locatelli in tante occasioni anche col Napoli in realtà l'altra sera invece l'ha fatto Arthur quindi Arthur che si abbassava e diventava il perno il regista difensivo centrale e Locatelli che invece semplicemente avanzava andando a creare quel rombo difensivo che abbiamo tanto discusso in questa annata e che per quanto mi riguarda era stato il principale la principale lampadina che si era accesa quando piro l'ha detto imposteremo tre difenderemo quattro sulla falsa riga del baier monaco che ha vinto l'ultima champions quando semplicemente tiago alcantara si inseriva tra i due centrali e andava a creare il rombo difensivo la salida la volpiana e l'altra sera abbiamo visto che ancora una volta la juventus è diventata efficace quando riusciva a fare questa cosa qui quando riusciva ad avere due attaccanti vicini in questo screen abbiamo Morata e Kuluseski che sono vicini tra di loro Locatelli più avanti che qua formava il rombo più che rombo il vertice basso del centrocampo a tre con McKennie che faceva la mezzala di sinistra Dybala che faceva la mezzala di destra Quadrade di Sciglio che facevano i due esterni alti ora questo è un modo estremezzato no di vivere questo modulo perché è ovvio che in una situazione normale Dybala non ti fa la mezzala di destra ma ti fa la seconda punta al posto di Kuluseski al posto di quel Dybala lì avrai un centrocampista in più ed è proprio qui che mi viene in mente che probabilmente un modo di intendere il calcio che fino adesso non abbiamo preso in considerazione perché volevamo anche cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche di Federico Chiesa che non è una punta una seconda punta l'abbiamo visto quando Allegri ha provato a schierare in quelle posizioni il modulo che sto prendendo in esame dato che abbiamo parlato di salire dalla Volpiana e quindi creando tre giocatori dietro cinque a centrocampo e di un attacco è proprio il 3-5-2 che noi abbiamo visto tante volte con Allegri anche nella prima esperienza della Juve soprattutto nella prima esperienza della Juve è che non è stato riprodotto o riproposto in questa seconda avventura forse proprio per la presenza di Chiesa ora parto da un presupposto io non sono amante della difesa 3 è anche vero che se dobbiamo cercare di inserire i giocatori migliori nel contesto migliore e vogliamo mettere Dybala al centro dello schema dello schieramento tattico e vogliamo utilizzare un centrocampo a tre non storto non c'è altro modo se poi vogliamo anche utilizzare gli esterni se non questo perché se Dybala deve giocare al centro devi fare il trequartista o la seconda punta e quindi o mi fa il 4-3-1-2 quindi il rombo con Dybala che fa il trequartista o la seconda punta però poi devi avere tre o quattro giocatori a centrocampo e non è che tu hai tutti questi centrocampisti incredibili oppure appunto il 3-5-2 senza contare che nel rombo quindi 4-3-1-2 gli esterni non li sfrutti a dovere è soltanto i due terzini che devono tra l'altro spingere tantissimo e coprire una gran porzione di campo se non aiutati dalle mezze ali e invece qua hai giocatori che fanno le ali invece che i terzini con tre centrali che si preoccupano principalmente della fase difensiva e poi quando difendi semplicemente abbassi le ali e vai a difendere a 5 quindi riuscendo anche a creare compattezza al reparto difensivo e soprattutto spinta al reparto offensivo e quindi questa è la formazione che ad oggi andrei a schierare sulla falsariga di alcune scelte poi possono esserci alcuni ballottaggi certo questo nessun problema anche perché ora andiamo a vedere quelle che sono eventualmente le riserve di questo sistema io non sono amante della difesa 3 però se guardo la formazione che ho schierato Dybala è nel suo ruolo Morata ha vicino uno come Dybala che lo può aiutare e Dybala non sarebbe costretto ad abbassarsi tanto perché a centro campo andresti andare a formare quel trio che può darti qualità e quindi palleggio Quadrato e Pellegrini potrebbero spingere sugli esterni e quella difesa lì pare ermetica sulla carta ed è ovvio che qualcuno mi dirà però Luca Chiellini non è che te le può fare tutte e dietro non siamo abbastanza coperti andiamo a vedere le riserve è ovvio che le riserve molte invece sono adattate se abbiamo parlato di una formazione titolare con tutti i migliori nei loro ruoli naturali per le riserve questo non vale a parte che non abbiamo tre centrocampisti io qua non ho messo Ramsey perché è stato dichiarato in uscita quindi Krusevski che fa il trequartista Caio e Ken che sono i due attaccanti di riserva anche se quel giochino tra Ken e Morata lo sapete io ve l'ho già spiegato non sto a ribadirlo ancora una volta Bernardeschi e Decidio che diventano gli esterni Rabbiu e Bentancur che sono i cambi e se devi giocare a tre centrocampo e Ramsey non ce l'hai Rabbiu e Bentancur sono le prime sostituzioni capite bene che qualcosa cambia e dietro devi adattarti devi adattarti perché Rugani è soltanto il quarto centrale che hai a disposizione Danilo quel ruolo te lo può fare benissimo l'ha fatto anche inizio anno con Allegri quando abbiamo deciso di fare la famosa salida e l'anno scorso compirlo quel ruolo te l'ha fatto alla perfezione Alexandro qualche volta l'abbiamo visto come difensore centrale questo momento in cui non sembra il miglior Alexandro forse Corrotero può fare anche se ormai io penso che Alexandro possa aver comunque terminato la sua avventura di Ventus però lo inserisco nella formazione delle riserve per dovere di cronaca e poi per inepinsoio insomma queste sono le riserve che sono molto più adattate lo vedete da voi rispetto ai titolari che invece secondo me quell'11 titolare è perfetto per le caratteristiche dei giocatori lo ripeto ancora una volta nonostante io non adori la difesa 3 qua però sorge un problema che è la lista champions perché abbiamo visto gli 11 titolari abbiamo visto le 11 riserve che sono 12 in realtà considerando anche il secondo portiere 11 più 12 fa 23 e sono i giocatori che andrebbero esattamente a lista champions se consideriamo che sono 21 i giocatori che vanno in lista champions più 2 CTP quindi che ne è pinsoglio significa che tu sei pieno hai due slot che vanno occupati soltanto da giocatori che sono stati formati nel vivaio della Juventus quindi tradotto a gennaio o ti prendi un giocatore che è nel vivaio della Juventus che è nato nel vivaio della Juventus oppure devi fare dei tagli in lista champions per inserirne degli altri ovviamente lasciando stare le liste degli under dove tra l'altro entrerà sole da gennaio quindi la Juventus potrà contare su sole senza occupare uno slot in lista champions o ti vai a prendere Immobile o ti vai a prendere Giovinco o sta gente qua se no fai senza semplicemente devi toglierne un altro quindi occhio alla lista champions perché con l'infortunio di Chiesa e l'uscita di Ramsey erano rimasti fuori due Caio e Pellegrini due ne escono Chiesa e Ramsey entra loro due e quindi sei pari a livello numerico questo è un problema qualcuno mi diceva semplicemente sostituisci Chiesa con Souley non vai a intervenire sul mercato ragazzi partendo dal presupposto che Souley comunque te lo puoi portare in panchina in un qualsiasi momento e pure in champions dato che entrerà appunto nella lista B io con tutto il bene che posso volere a Souley ma in questo momento uno non ti darebbe garanzie due prendere un ragazzo di 18-19 anni e buttarlo in pasto a questa Juventus e chiedergli di risolverci dei problemi gli fai male gli fai del male vai a rovinartelo perché non è questo il percorso di crescita giusto di un ragazzo è ovvio che lo voglio vedere io sono il primo che lo vuole vedere Souley in qualche partita ma dirgli guarda si è fatto male è il giocatore più forte che avevamo non andiamo sul mercato perché non abbiamo soldi giochi tu al posto di chiesa secondo me è chiedergli troppo poi io non conosco bene né Souley né Caio io sono sincero non li conosco bene non li ho visti giocare così tanto ho visto degli spezzoni non so dirvi quanto sono forti e soprattutto quanto sono pronti io Luca Toselli non lo so poi magari c'è qualcuno di voi che ha seguito maggiormente l'Under 23 o ha seguito Caio Orge in Brasile ed è pronto a dirmi quanto sono forti effettivamente questi ragazzi rapportati alla Serie A la Champions League io non lo so capisco che se in questo momento non sono così presi in considerazione dall'allenatore o l'allenatore sta sbagliando completamente io non dico che non sarà così che non è così non lo so non ne ho idea non li vedo gli allenamenti non lo so non lo posso sapere quindi questa è un'opzione o semplicemente non sono pronti oggi per quella che è il livello della Juve o quelli che sono le ambizioni della Juve poi pian piano devono iniziare ad entrare nelle rotazioni devono iniziare a respirare sempre più minuti di Serie A di prima squadra di Juventus per essere pronti nel giro di prossimo anno direttamente o se esageriamo quello dopo ancora ad essere dei titolari dei titolaroni proprio dei fuori classe da qui a due anni perché i giovani ci sta aspettarli ma non all'infinito e quindi iniziare a dargli delle possibilità di e poi valutarli Kulusevski per dire a qualcuno ieri mi ha detto che sono stato troppo largo con Kulusevski nelle valutazioni della Roma forse è vero forse è vero e io sono il primo ad ammettere Kulusevski ha un difetto tremendo sbaglia tutti tutti i primi stop non è poco a livello tecnico un giocatore da Juventus che mi sbaglia tutti i primi stop diavolo non può esistere una roba del genere e Kulusevski lo fa quindi questo è un problema effettivamente questo è un problema e forse sono stato davvero troppo largo forse il voto di Kulusevski nonostante il gol poteva essere semplicemente 6 però è ovvio che la Juventus a un certo punto non è che dice eh Kulusevski dai è un 2000 no a un certo punto la Juventus decide dentro o fuori Kulusevski così come per Ken che lo ribadisco io 38 milioni per Ken non li avrei mai spesi mai poi eventualmente sia Ken che Kulusevski boom adesso esplodono fanno il ritorno dei fuori classe diventano giocatori in lista per il pallone d'oro me lo auguro sono il primo ad augurarmelo ci credo o no non ci credo beh devo essere onesto sincero quindi ad oggi chiedere a Caio o Soulet di diventare giocatori che mi salvano la Juve secondo me è follia cioè stiamo veramente ipotizzando uno scenario in cui succede qualcosa di incredibile ad oggi impronosticabile addirittura esagero io uno come Caio che oggi non vede il campo neanche per sbaglio io oggi lo do in prestito perché se devo farmi altri sei mesi poveraccio di Caio che si allena e basta e guarda le partite in panchina e mi fa tre minuti quando va bene perché devo tenermelo qui se l'allenatore non lo vede ad oggi non lo ritiene pronto lo prendi lo mandi da qualche parte in prestito perché poverino se no questo qui che cosa deve stare a fare alla Juventus che non lo vedono non lo vedono non lo vedono quindi o Allegri a un certo punto capisce che è perfetto e quindi anche Caio diventa pronto o magari è già pronto e Allegri lo capisce non è che ci sono tante strade cioè che si mettono d'accordo che si parlino che Allegri vada chiaro dalla società a dirgli oh ragazzi mi assumo la responsabilità secondo me ad oggi Caio non è pronto lo prendi lo metti in prestito se no fai un danno anche a lui e quindi eventualmente libereresti lo slot Champions di Caio che abbiamo visto prima per un acquisto il sostituto di Federico Chiesa ora se sarà davvero 3-5-2 il sostituto vedendo come l'abbiamo messa giù potrebbe essere semplicemente un centrocampista perché Kuluzeski potrebbe andare a farti la quarta punta un po' come l'anno scorso però capisce che avresti lo stesso attacco dell'anno scorso Di Bala Morata Kuluzeski quarta punta e Ken al posto di Ronaldo quindi il posto poi eventualmente di Chiesa e di Ramsey potresti andare a sostituire con un centrocampista di vari Zaccaria bla 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 però cosa aggiungi con Zaccaria in e Chiesa out perché devi immaginarti Chiesa con un'eccessione a gennaio perché non ce l'avrai per i prossimi mesi non penso che tu aggiunga niente che tu possa addirittura peggiorare perché Zaccaria non lo conosco vale lo stesso sicuro che abbiamo fatto prima però arriva un fenomeno davvero o insomma è un problema però ricordiamoci anche che se dobbiamo giocare col centrocampo a 3 nel 3-5-2 per fare quei 3 che abbiamo detto prima un centrocampista di riserva ti serve qua sarebbe interessante Fagioli che potrebbe essere inserito in lista nei CTP perché è di tua proprietà non dovresti pagarlo però bisogna vedere se la Cremonese a gennaio te lo dà come sono i rapporti come sono gli accordi e se la Juventus ha intenzione di fare sta roba qua però per quanto mi riguarda in questo centrocampo qua McKennie Artur e Locatelli se le due riserve sono Bentancur e Rabiot in questo momento metto Fagioli può essere qualsiasi livello di Fagioli ci metto lui che non dimentichiamocelo anche lui non è che sia così giovane ormai quindi non è che la Juve può aspettare di fargli fare altri mille anni in prestito o dentro o fuori cioè se pensi che possa essere pronto per l'anno prossimo anticipi di 6 mesi in un momento di emergenza in cui non vai a occupare uno slot in lista Champions e quel buco che ti libera Caio Org in prestito ti serve un attaccante ti serve un attaccante perché se no rimani esattamente come eri in questo momento qua se no decidi che Kuluseschi ti fa la quarta punta e vai sul mercato e prendi un centrocampista oh che ti devo dire vai a prendere un centrocampista forte non so chi possa essere però ad oggi la prima domanda che si deve fare la Juventus per sostituire Chiesa è la seguente qual è il modulo che da qui alla fine stagione voglio utilizzare per massimizzare i giocatori che mi sono rimasti se decidi che è il 3-5-2 bene capisci allora quali sono le gerarchie in attacco questi sono i quattro attaccanti non mi dà garanzie vai a prendere un attaccante tre centrocampisti quelle sono le riserve non lo so allora vai a prendere un centrocampista oppure davvero davvero fai tutte e due richiamando fagioli alla base e andando a prendere un attaccante però la prima idea che ti devi mettere in testa è quale modulo uso da qui alla fine dell'anno questi sono i sette punti che mi sento di dare alla Juventus come specie di tutorial per sostituire Federico Chiesa la principale motivazione di tutto parte da lì come voglio giocare poi magari Allegri non ce l'ha neanche nell'anticamera del cervello di giocare a tre vuole continuare a giocare a quattro semplicemente facendo la salida per impostare a tre e va benissimo però se devo immaginare gli undici migliori giocatori ad oggi senza Chiesa è il sistema migliore per farli coesistere a me viene in mente il 3-5-2 per quanto sia un modulo che non mi piace finisco dicendo che qualcuno potrebbe dire eh ma il 3-5-2 è un modulo difensivo non esiste il modulo difensivo esiste l'atteggiamento con cui interpreti quel modulo di giocare a calcio basti pensare che ad oggi l'Inter capolista in serie A e squadra che ha segnato più gol nella competizione gioca appunto quel 3-5-2 ma riesce a interpretare in maniera super positiva e propositiva ed ecco che sono quelli che hanno segnato più gol giustamente perché comunque il modulo lo interpretano alla perfezione non focalizziamoci sui moduli quanto più sull'atteggiamento e i compiti che chiede i calciatori e le posizioni in cui i calciatori diventano interessanti basta questa è la mia opinione vostro onore ho finito la ringa voglio sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti ultimissima cosa non lo chiedo a partire dalla Supercoppa dove siamo in difficoltà incredibile delito fuori chiesa fuori quadrato fuori probabilmente anche Danilo stesso non sarà al 100% non c'è bonucce quindi Supercoppa devi fare necessità appena inizi a recuperare qualche giocatore e hai un'idea chiara su come termina la stagione il modulo lo devi mettere in cima alla lista delle priorità prima ancora del sostituto perché non è che puoi andare a prendere un giocatore a caso sul mercato più di allegri incastrano insieme magari i pezzi del puzzle non si incastrano non si incastrano